Andiamo al parco della Caffarello, uno dei parchi più belli di Roma Sei pronta Camilla per questa nuova avventura? Sì Ed eccoci qui, siamo partiti tutti insieme Allegra con Briccola Allegra con Briccola Si parte? Amor Eccoci eh Arrivati Nuova avventura Ecco qua Bau Vero troncini Tutta la Sagrada Famiglia Non siamo in Spagna o ne siamo a Roma Adesso 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 che c'è? cavallo? che grande come fa cavallo? hai visto? che grande che è eccolo! hai visto la capretta? che fa la capretta? andiamo? mamma? ah brava! dila a mamma mamma davvero c'è la gallina che bello! che bello cavallo! hai visto? questo si chiama pony questo è il cavallo piccolino! guarda! non nell'occhio! qui sopra! qui puoi fare piano piano! che brava! alessia vieni qui! alessia vieni qui! dai! andiamo a fare la porchetta! c'è l'occhetta! c'è l'occhetta! c'è la capretta! ecco qua! stanno bene amo! wow! con le scarpe! facciamo la pappa! facciamo la pappa? siamo a pezzi! ci abbiamo messo sei ore e mezza per fare un chilometro e nulla! adesso ci siamo meritati questo pranzino! pezzetti di pizza! e vediamo un po' dopo che cosa ci aspetta! eh? se lasceremo qui la macchina o meno? dato che il parcheggio gira le 19! ci abbiamo messo sei ore per arrivare qui! vediamo un po'! a dopo! ciao! abbiamo ripreso a camminare! camilla è quasi che a paura! e papà è in testa con torroncino! diciamo che stiamo facendo un test nel trentino! ecco! finora? come possiamo dire che finora è andata bene no? è andata bene ma è stato! guardo un chilometro e non so più! diciamo che dovremmo fare tutti i percorsi brevi perché se camilla vuole camminare ci mettiamo due ore per fare un percorso da quindici minuti! c'è camilla! che poco poco! che manca sta dormendo ecco! mi ha dato una pignanfata! davvero? perché è camminato! eh sì! diciamo che camilla non ha dormito dopo pranzo e adesso sta parecchio K.O. ebbene continuiamo con papà che ci lancia i corasacchi! camilla è andata adesso! si schiatta nella macchina! si sta morendo di caldo ragazzi il cagnolone eccolo qui! adesso andiamo a fare una sorpresina alla nonna! e nulla! stiamo facendo delle prove con camilla e torroncino che ecco si è alzato perché in trentino dovremmo viaggiare in sicurezza così! perché torroncino deve stare legato alle cinture dietro! con la pettorina! con la pettorina e non con un guinzaglio! finché camilla dorme va tutto bene! il problema è quando camilla si sveglia! vediamo! eccoci siamo venuti per salutare mia nonna che non si aspetta niente! vediamo la sua reazione! sorpresa! come stai? guarda chi c'è? guarda chi c'è? vieni mamma vieni! vieni a salutare un po' nonna! vieni a salutare la bisnonna! ecco il terremoto! dai vieni a salutare la bisnonna! vieni camilla! dai! vieni! salve eccoci! eccoci! allora noi vi invitiamo sempre a iscrivervi al canale mi raccomando seguidici mettete like al video dovete iscrivervi 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 dai! fai questa iscrizione su dai! fai questa iscrizione camilla pure tu dai! dai che ora noi ci andiamo a fare una bella scenetta a piazza della piazza! ci stai invitando ad un aperitivo e ad una città! vengo accomodiamoci in balcone! andiamo a vedere questo aperitivo inaspettato incredibile! andiamo a vedere l'effetto si è wow! mamma abbiamo del vino frizzante ragosta delle patatine e delle tigelle? sono proprio tigelle? mamma mia che c'è qua dentro ragazzi? clamorosa la zia! clamorosa! andiamo a stringergli una mano! prego, prego, prego! enjoy! camilla? enjoy aperitivo! enjoy! mettiamo del buon vino! e camillina? ecco la mitina c'ha l'acqua! abbiamo una ragosta frizzante, produzione italiana! andrà verso sto vino! wow! si è andremo dove si lavora com'è! sommelier? sommelier! attenzione, accurato! perfetto! i dettagli! ecco a voi! hai fatto vedere nel dettaglio? nel dettaglio ho fatto vedere le tigelle! ah! le tamigelle! le tamigelle! le tamigelle! le tamigelle da modena! abbiamo anche una mortadella da modena! patatine! vinello! patatine cotte in padella! ahime! pepe verde! mamma mia! qua delitto! buono! buon appetito! buon appetito! mamma mia! che manicaretti! pasta con il salmone! Alessia spiegaci un po' questa pasta! illustraci! raccontaci questo piatto! pasta al salmone! pasta al salmone! semplicemente! semplicemente continua a riempire i bicchieri stasera a tenere a casa a piedi o in taxi! e vai! adesso passiamo alle cose! wow! un celato fatto in casa! ho passato alla zia! ho passato tutto il progetto! grazie! vabbè questo l'abbiamo portato noi! abbiamo del pistacchio! abbiamo positano al limone! abbiamo del bacio! abbiamo del croccante! e dello yogurt al lampone ragazzi! e poi abbiamo della grande panna che non vedo! se la mangerà tutta la zia! eccoci qui! eccoci qui! finalmente tornati a casa! sancante si! ti è piaciuta questa giornatina intensa morino? molto! ti è piaciuta questa giornatina a te? eh? si! che hai visto gli animaletti? eh! mamma mia! che c'era il cavallo? come fai il cavallo? iiii! 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 i Abbiamo visto solo una piccola parte Poi non ci siamo addentrati troppo Perché Camilla comunque per camminare ci metteva un po' C'è un'altra un dotto Poi non voleva stare in parte giga E quindi torneremo a cercare i conigli Sì perché è famosa per questi coniglietti liberi da tutto Dai ricinti Quindi sono in totale libertà Restate connessi se vi è piaciuto il video E seguiteci mi raccomando Mettete un like al video se vi è piaciuto Mi raccomando iscrivetevi a questo canale Sentite la campanella che fa Mi raccomando Seguiteci per i prossimi video Ciao Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando